Prima nazionale a Fano di Trip, il nuovo lavoro del musicista marchigiano Marco Fagotti, un particolare viaggio musicale, ce lo racconta Daria Beni. Sei punti focali che irradiano la musica prodotta la coinvoliano al centro della sala dove è seduto l'ascoltatore. È la prima nazionale al bastione Sangallo di Fano del nuovo lavoro di Marco Fagotti, polistrumentista e compositore di Fano. Un viaggio musicale che accompagna lo spettatore verso una nuova forma di conoscenza. Il lavoro si chiama appunto Trip, con chiaro riferimento ai viaggi allucinogeni della psichedelia, ma qui il viaggio è indotto non da sostanze stupefacenti, ma da suoni e luci sapientemente gestiti dal musicista e dai tecnici Giuseppe Laruffa e Guglielmo Torelli. Ci sono degli elementi di interazione che mettono me stesso in relazione con il pubblico e ci sono degli elementi di light design e di suono multifonico che servono a completare questa sorta di percorso sensoriale, arrivando fino al suono e all'interazione che il suono ha con la luce. Da sempre interessato alla musica elettronica e soprattutto alle narrazioni istantanee, ha realizzato oltre 60 esecuzioni in Italia e all'estero, chiamate affabulazioni. Con Trip, Fagotti usa la pianificazione tecnica e l'improvvisazione sonora per realizzare il suo mandala musicale, ben consapevole che l'unica traccia che resterà dell'esecuzione sarà quella impressa nella memoria dello spettatore.